Proseguono le nostre interviste ai nuovi assessori del Comune di Trani. Oggi scopriamo la nuova responsabile della Polizia Locale della Viabilità, Cecilia Di Lernia, avvocato che già in passato aveva ricoperto un ruolo assessorile. Francesco Rossi. Sicuramente obiettivi di miglioramento della città. Ritengo che la vecchia esperienza abbia rappresentato un viatico forse per la nuova. Quindi c'è una maturità ovviamente diversa. Ritengo che in questo momento la priorità sia sicuramente la sicurezza, una sicurezza condivisa, richiesta dalla cittadinanza, richiesta anche dallo stesso corpo di Polizia Municipale. Quindi ritengo che in questo momento bisogna rispondere a certe domande che sono evidenti, domande che i cittadini ci pongono. Quindi sicuramente l'obiettivo per queste festività è sicuramente questo. Sicurezza ma anche una sistemazione finalmente della viabilità cittadina che rappresenta davvero uno dei grandi problemi della città da troppi anni. Io ho parlato con il sindaco e ho visto che sia l'assessore uscente che l'amministrazione sono orientati da questo punto di vista. Una zona pedonale che renda la città viva e vivibile. Ovviamente è necessaria la collaborazione di tutti, ma penso che questo sia un obiettivo prioritario che sicuramente verrà portato a termine. Quali differenze tra la vecchia esperienza e questa secondo lei? Sicuramente è una crescita. Per quanto riguarda me è una crescita personale. Non si è più come un tempo. Sono passati tanti anni, c'è una consapevolezza diversa, una maturità diversa, una professionalità diversa che ovviamente io porrò al servizio della cittadinanza. Grazie. 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 Grazie.